Eccoci, siamo pronti per la partenza anche quest'anno. Ce l'abbiamo fatta a organizzare il Festival della Politica anche nel 2015 per questa quinta edizione, perché siamo già arrivati alla quinta edizione, sempre con grande fatica, perché non è semplice, con pochi mezzi, ancora la città, e quando dico la città mi riferisco principalmente all'istituzione, agli enti cittadini, non si riconoscono ancora abbastanza in questa manifestazione, che rischia di scomparire. Noi però l'abbiamo difesa con i denti e quest'anno siamo riusciti a mettere in piedi un programma a livello degli anni scorsi, con relatori che sono alcuni tra i principali protagonisti della vita culturale del nostro Paese. È infatti il nostro un festival di cultura politica, non è un festival di politica in senso tradizionale, di partito con i leader politici protagonisti, bensì è un'occasione di confronto, di discussione, di dibattito sui grandi temi del nostro tempo e della politica. Ed è un format, devo dire, che funziona e la dimostrazione è il successo dell'edizione dell'anno scorso e anche la vostra presenza qui di stasera. Noi cominciamo appunto questo quinto festival della politica, che quest'anno è dedicato al tema tra politica e leadership. Un tema cruciale del nostro tempo, che implica di mettere in relazione il rapporto tra la leadership e gli elettori, che implica una riflessione sulla selezione della classe dirigente, che implica un ragionamento anche più complessivo sulla crisi della democrazia che stiamo vivendo oggi. Su questi temi parleremo nel corso di questa settimana fino a domenica. Parallelamente abbiamo attivato due sezioni speciali, una quest'anno dedicata a Pierpaolo Pasolini, in occasione dei 40 anni della sua scomparsa, e non devo starvi a spiegare perché abbiamo deciso di dedicare a lui questa sezione speciale, perché è un intellettuale, uno studioso, un protagonista della vita sociale contemporanea del Novecento sotto mille profili. E sarà una sezione che avrà un appuntamento quotidiano nel tendone che abbiamo allestito davanti alla Galleria Matteotti e sarà curata anche quest'anno dal giornalista di Repubblica Antonio Gnoli. Parallelamente, a poca distanza, in Piazzetta Battisti, in Piazzetta del Tognolo, ci saranno due appuntamenti quotidiani, uno dedicato al rapporto tra filosofia e politica, filosofia e società, che è curato dal filosofo Massimo Donà, e che sarà un'occasione per riflettere con alcuni tra i principali filosofi contemporanei su questi temi. E poi nel pomeriggio, sempre in Piazzetta Battisti, sarà una serie di presentazioni di libri, una sezione curata in collaborazione con Marsiglio. Ecco, il festival quest'anno presenta anche alcuni eventi collaterali, uno è organizzato proprio qui, sulla torre, una mostra di manifesti inediti della raccolta personale di Luigi Nolo, che non era solamente un grande maestro, un altro grande compositore, ma è stato anche un grande pensatore, direi, del nostro tempo. E in tutti i suoi viaggi in giro per il mondo, collezionava, raccoglieva manifesti politici. E una selezione è qui, alla Torre Civica, fino al 20 settembre. Parallelamente c'è anche una mostra di fotografia di Giulia Candussi, che è una fotografa di fama nazionale, ma che collabora da tempo con noi, con il Festival della Politica, ed è una mostra dove sono esposte fotografie sulla città, danza e città. Sono alcuni posti di mestre, in particolare anche di Venezia, particolarmente degradati, fotografati con dei protagonisti che sono appunto dei ballerini, e vi invito ad andarla a visitare al centro Candiani. Infine, da venerdì, in Via Poerio, ci saranno anche alcuni di questi furgoni che producono cibo di strada, cosiddetti di street food, di qualità, anche perché crediamo che sia un momento anche conviviale il Festival, e quindi si avrà la possibilità di andare ad assaggiare alcuni prodotti di qualità, soprattutto del nostro territorio. Ecco, quindi anche quest'anno, in poco tempo, con poche risorse, siamo riusciti a costruire un programma di grande qualità per mestre. Una cosa a cui teniamo molto, però in prospettiva bisogna che tutti voi ci diate una mano per difendere questo Festival. E in questo senso abbiamo pensato anche di aprire una raccolta di firme in difesa del Festival. Non è un appello polemico, anzi, ma è un appello per difendere un'iniziativa culturale di qualità della nostra città. Quindi vi invito da oggi, ci saranno in tutte le location del Festival, i moduli dove sottoscrivere questo appello. Oggi l'anteprima. Il Festival comincia domani, oggi l'anteprima con alcuni appuntamenti, ma soprattutto uno che mi sta particolarmente a cuore, e che è quello che è in programma adesso, e che presenta un progetto della città. Perché noi siamo una fondazione radicata nel territorio, radicata soprattutto a mestre, e quindi teniamo molto a tutto quello, a raccontare tutto quello di importante che si muove nella nostra città. E questa iniziativa che presentiamo oggi, e che abbiamo anche presentato lo scorso anno, che facciamo tappe a tappe, perché ci teniamo a seguire passo passo lo sviluppo di questo progetto, e avete capito che mi riferisco all'M9, mi sta particolarmente a cuore, non solamente perché rappresenta il più grande progetto culturale costruito a mestre negli ultimi decenni, ma anche perché rappresenta una grossa opportunità, un'operazione di rigenerazione urbana per mestre. Tutto quello che è stato il dibattito, anche che ha accompagnato la campagna elettorale di questi mesi, quello dell'impoverimento di mestre, del degrado di mestre, ecco io credo che l'M9, oltre che un'occasione, di un momento culturale, sia soprattutto un'occasione di rigenerazione urbana per mestre, di cui sentiamo un grande bisogno. Quindi io credo che sia perfettamente coerente all'interno di questo festival, presentare, incoraggiare, sostenere un progetto come quello dell'M9, che è promosso, come sapete, dalla Fondazione di Venezia, che è tra i soci fondatori della Fondazione Pellicani, che promuove il festival della politica, e con cui noi, ormai da quasi dieci anni, collaboriamo, ma collaboriamo su progetti, è una collaborazione fondata su contenuti, e questa vuole essere appunto la dimostrazione. Quindi vorrei chiamare sul palco il professor Giuliano Segre, che è stato fino a poche settimane fa presidente della Fondazione di Venezia, adesso segue da vicino lo sviluppo del progetto culturale dell'M9, e Guido Guerzoni, che lo stesso collabora ormai da qualche anno alla realizzazione del progetto. Grazie. Svolgo la parte del piccolo presentatore. M9, come credo la maggior parte di voi sappia, è nato, come diceva Nicola, come un ambizioso progetto di rigenza urbana, non solo particolarmente rilevante per il territorio su cui insiste, ma perché ha una scala di intervento che supera e travalica i confini, se vogliamo, del luogo in cui sta nascendo. Se osserviamo con attenzione il panorama dei progetti attualmente in fase di realizzazione in Italia, ci rendiamo conto che sono pochissimi quelli che possono competere in termini di qualità e di ambizioni con M9. E questo è un dato importante perché M9 è nato, se vogliamo, in un momento preciso, ormai è dal 2007 che la Fondazione è impegnata in questo ambizioso progetto, in una fase in cui altri tentativi di trasformazione di realtà urbane della mesesina scala avevano luogo. Alcuni si sono fermati, altri sono stati interrotti dalle difficoltà finanziarie che hanno flagellato l'Italia non solo tra il 2008 e il 2009. Nonostante tutte le difficoltà e la perdurante crisi economica, M9 ha continuato in qualche modo a procedere. L'ho fatto silenziosamente, lo ha fatto evitando polemiche, lo ha fatto cercando giorno dopo giorno e qui sono tante le persone che hanno collaborato e che collaborano al suo felice esito. Dicevo, lo hanno fatto guardando soprattutto il traguardo finale che è quello in qualche modo di restituire alla città una porzione significativa che è rimasta preclusa al pubblico utilizzo e alla pubblico utilità per secoli con in qualche modo un posizionamento strategico che assomma diversi elementi. Non c'è solo un ambizioso progetto culturale non c'è solo innovazione tecnologica c'è un progetto per la parte ritele estremamente innovativo è un luogo e sarà un luogo di aggregazione intelligente e di innovazione. E come diceva Nicola mi piace ribadirlo c'è una sorta di fratellanza tra il Festival della Politica la Fondazione Pelicani ed M9 non è un caso che io stesso col professor Segui torni a calcare questo pubblico a distanza di un anno da una presentazione pubblica che l'anno scorso si tenne il giorno dell'inaugurazione del festival a ribadire questa volontà di informare reciprocamente la cittadinanza al di fuori di altri incontri non pubblici sul suo stato di avanzamento. Lo scorso anno a settembre il cantiere di M9 era appena stato inaugurato il cantiere è stato in qualche modo insediato si è insediato a luglio quindi eravamo proprio freschi ci furono le prime attività ma non lo si vedeva a distanza di un anno sono stati tre gli ambiti che hanno registrato significativi passaggi in avanti nel tutto il cantiere sotto gli occhi di tutti non ha mai smesso di lavorare alla cremente ci sono state anche comprensibili lamentele sugli orari notturni e sui disturbi arrecati alla cittadinanza spero che perdonerete chi ha patito dei disturbi ma a testimoniare proprio la volontà di lavorare alle cremente ci sono state fasi dell'elaborazione che hanno necessitato ovviamente di orari prolungati è un disturbo un piccolo pegno da pagare perché le cose procedono il cantiere non si è mai fermato anzi chi di voi passi attorno all'area può constatare di persona quante persone stiamo lavorando e che progressi si siano registrati in un così breve lasso di tempo in parallelo anche la procedazione dei contenuti è stata curata con la medesima attenzione sono stati istituiti due advisory board il primo e anche il secondo poi coordinato dal professor De Michelis diversi specialisti si sono affiancati appartengono ovviamente anche a generazioni diverse ma da un anno a questa parte sono stati fatti passi da gigante stiamo di fatto chiudendo la sceneggiatura finale e siamo piuttosto soddisfatti lo dico in qualche modo avendo una responsabilità poi operativa nel verificare la qualità del lavoro svolto proprio del livello di attenzione che è stato prestato alle richieste della committenza siamo estremamente contenti e immaginiamo che ci sia presso un'occasione per parlare con calma e approfonditamente dei contenuti che rappresentano uno dei grandi interrogativi per quanti non hanno modo di seguirci online dai primi mesi dell'anno esiste una piattaforma social di M9 siamo presenti su più canali e sono tanti coloro che hanno deciso di seguirci attraverso questo strumento che quotidianamente informano sui progressi e sugli avvenimenti per quanti ancora non avessero avuto l'occasione di visitarli vi invito caldamente in qualche modo da farlo perché è uno strumento per tenere acceso un contatto su una base quotidiana e infine ma di questo parlerà più diffusamente il professor Segre che coordina formalmente il progetto ci sono stati anche significativi passi avanti per quanto riguarda la governance del progetto ci sono tanti soggetti coinvolti c'è la fondazione di Venezia c'è la costituenda fondazione M9 c'è Polimia qui oggi rappresentata in pieno organico che sta seguendo diverse attività quindi i diversi soggetti stanno in qualcosa divenendo a una formalizzazione di una nuova governance chiudo il mio intervento di riassunto introduttivo con una nota personale credo che il tema che viene svolto oggi abbia una diretta attinenza con il sottotitolo scelto da Nicola quest'anno per definire i contenuti del Festa della Politica politica e leadership sono due termini che nell'ultimo anno hanno investito anche il mondo in passato un po' sonnacchioso e a volte accusato di immobilismo dei beni culturali ci sono almeno due elementi significativi che toccano da vicino l'esperienza di M9 uno riguarda l'attenzione prestata dal ministro Franceschini alle nuove politiche dei beni culturali con delle in qualche modo azioni significative dall'arbonus del luglio scorso alla riforma dell'impianto museale e soprattutto per la prima volta c'è un'esplicita attenzione prestata dal ministero Mimba al tema della leadership voi sapete che si sono chiuse non più tardi di tre settimane fa le nomine per i nuovi 20 musei italiani che sono stati affidati per la prima volta a dei nuovi direttori scelti con un concorso pubblico aperto internazionalmente ci fu una pubblicità sull'Economist a febbraio per 20 posizioni si sono presentati in 1100 ne sono stati selezionati sono stati selezionati le terne e recentemente ne sono stati nominati 20 di questi sette sono stranieri uno solo viene dai ranghi degli istituti statali quindi c'è la volontà anche da parte del Ministero per i beni e l'attività culturale e turistiche italiane di aprirsi e riconoscere che c'è un tema di leadership qua anche M9 aspira vale a dire che i benefici che sono attesi da questa riforma verranno presumente estesi perché non più tardi una settimana fa lo stesso Ministro Franceschini in visita a Venezia per l'apertura del Festival del Cinema ha ribadito che intende estendere alcuni principi che sono sempre stati quelli che hanno ispirato anche il modello di M9 a tutti gli istituti museali di proprietà statale quindi ci troviamo in un momento in cui anche il campo dei beni e attività culturali è in qualche modo investito da un vento di innovazione e di trasformazione non è ovviamente chiara quale sarà la risultanza finale ma è certo che per la prima volta viene riformulata una politica dei beni culturali che ha un'ambizione di leadership questo è importante perché sono due termini che rientrano in qualche modo nella missione di M9 e per chiudere all'interno di questa rinnovata attenzione per le funzioni che le attività culturali svolgono nell'ambito di realtà urbane che non sono solo quelle metropolitane è stato ribadito anche il successo di iniziative come i festival i festival d'anni sono in qualche modo attesi a un passo falso ogni anno ci si domanda sarà l'ultimo anno ma come mai questa formula continua a resistere nonostante la crisi dei finanziamenti tagli a dispetto di tutte le persone negativi i festival continuano non solo a resistere ma a prosperare arriva a dire che cosa e lo testimonia anche il foltonuro di persone qui presenti in una giornata infrastrittimanale in un orario in cui alcuni lavorano ancora non è venuto a mancare in Italia anzi sta crescendo il desiderio di una presentazione attiva alla vita culturale di un incontro in qualche modo in cui ci sia una dimensione di condivisione quasi fisica dei contenuti di ascolto dopo anni e anni di mediazione televisiva la gente ha riscoperto il piacere di riappropriarsi di spazi pubbliche e ascoltare ascoltare criticamente ma ascoltare in un contesto in cui in qualche modo le parole vengono espresse dalla viva voce dei relatori è un modo per misurare la qualità di chi ci parla e soprattutto toccare temi che raramente vediamo in televisione il programma di quest'anno lo dico perché poi mi occupo dal punto di vista accademico di festival da 15 anni è di eccellente qualità lo potete confrontare anche con quello di analoghe manifestazioni che stanno per aprirsi tra pochi giorni cioè Porto non è legge manto dietro le porte nonostante la densità in qualche modo di iniziative e consimili il festival della politica di mezzo quest'anno offre davvero una serie di occasioni particolarmente ricche dal punto di vista della qualità dei contenuti e questo perché c'è ancora la volontà di scoprire insieme e di in qualche modo misurarsi direttamente con alcune questioni senza l'isteria in alcuni casi delle testate o di chi deve vendere a tutti i costi le notizie e senza l'algida in qualche modo mediazione della televisione questo lo dico perché M9 in qualche modo vorrebbe mantenere se possibile la tensione che si registra nei giorni del festival durante tutto l'anno abbiamo sempre detto M9 nasce come una sorta di macchina editoriale con un palinsesto ricco questo perché la cultura non è fatta solo di grandi eventi o di momenti altissimi è fatta di presenze quotidiane è fatta di un'attenzione davvero costante a dibattiti a volte anche scomodi a volte urticanti ma la missione dei musei di nuova generazione è quella di aiutare la formazione della coscienza critica è quello di assistere chi vuole rimanere un cittadino e su queste parole credo sia opportuno cedere il microfono al professor Segre non è semplicissimo entrare in un tema che riguarda argomenti di formi e diversi da quelli che poi saranno trattati negli anni nei giorni successivi è un'anteprima di un progetto culturale preciso ben costruito secondo me particolarmente interessante lo diceva Guido lo confermo io con giunto direi alla maturità alla maturità dei cinque anni quindi non una maturità di lunga lena ma certamente comunque maturo nella capacità di impianto e rispetto a questa cosa che da domani seguirà utilizzare uno spazio che viene concesso che viene richiesto che è in anteprima a tutto ciò e che deve parlare di un impianto invece consolidato non di dibattito ma di mezzi finanziari ma di mattoni ma di macchine movimento terra di costruzioni di un impianto culturale che si lega all'attività economica che lo potrà mantenere successivamente e che comunque fa da sponda un impianto commerciale che è necessario in una città che ha visto comprimersi lo spazio commerciale interno all'area urbana quindi siamo davvero in una situazione di complicazione ma siccome tutto quanto introduce innovazione tutto quanto introduce occasioni nuove in una realtà che devo dire onestamente si è stancata negli ultimi anni ha perso obiettivi aveva obiettivi che ha perso lungo la strada aveva impostazioni che qualcuno ha chiuso lungo la strada che aveva un percorso di insediamento fra i soggetti capitali del paese del momento in cui il paese si presentava come capitale del mondo almeno dal punto di vista espositivo diciamo espositivo riguardo all'energia riguardo all'agricoltura all'alimentazione bene tutto questo si è sderenato come si potrebbe dire si è accucciato nulla di questo più abbiamo visto nel corso del 2015 e quindi ci troviamo come dire ad avviare qualcosa in una realtà utilizzando un oggetto che si è avviato dieci anni fa l'ipotesi di M9 è partita nel 2005 io avrò occasione per illustrarlo una parte illustrativa seguirà le mie parole e quindi mi attengo da questo punto di vista a un testo che avevo scritto anche per usare economizzare tempo diciamo perché come sempre quanto è scritto obbliga a concisione e a consecuzione di ragionamenti inattaccabili e per questo io ho una traccia che contrariamente al solito seguirò con attenzione a partire dalla prima immagine che ci è dedicata nella formula che abbiamo acquisito e che è rappresentata nella figura che potete vedere è un impianto che abbiamo cercato di avviare in tanti ragionandoci e M9 è venuto fuori quasi automaticamente dall'ambiente che volevamo che volevamo evocare un ambiente che si riferisce dove M si riferisce a mestre va bene su questo non c'è dubbio ma anche a mostra ma anche a museo ma anche a mediateca a una serie di ambiti specifici che hanno a che fare con la presentazione di ragionamenti di pensieri e M9 ha a che fare con 900 e però quando studiavamo questa assimilazione queste cose trovavamo in M9 anche questa è una banalità però c'è la targa automobilistica di Venezia che è la città nella quale ci troviamo quindi c'è un barocchismo in questa in questa schema che invece è così lineare così preciso che ha creato pensiero nel avviare questa questa iniziativa ora ne parlo ne parlo io indicando il fatto che non tutti i significati che abbiamo dato sono poi significanti e quindi qualche possibilità se vuoi di errore se vuoi di miglioramento bisogna comunque portarla avanti non è poi neanche poco significante in questo caso che si avverta la città di Venezia dalle piazze di Mestre di un progetto che si insedia nel comune di Venezia e quindi fa parte della struttura amministrativa di questa di questa città e come vedremo successivo successivamente riesce a incapsularsi anche in una innovazione istituzionale che è propria di questo periodo e che poi si chiama città metropolitana quindi un tema che incrocia gli elementi di istituzione di ambito istituzionale locale e che ci accompagnerà lungo questo percorso lo faccio io senza infingimenti il primo luglio io ho cessato per decorrenza di tutti i mandati possibili fino adesso ho cessato di essere il presidente della fondazione di Venezia lo ero dal 1992 quando è stata costituita la fondazione di Venezia lo ero da prima lavorando nel gabinetto del ministro Amato quando venne fatta la rivoluzione delle banche pubbliche e l'avvio delle fondazioni di origine bancaria non posso negare che tutto questo tema che dal 1990 e forse anche prima seguo con attenzione e anche con qualche scrupolo scientifico perché qualche pezzo non di altissima letteratura economica ma di puntualizzazione degli eventi l'ho pure pubblicato e su riviste anche di qualità intorno al tema delle fondazioni delle fondazioni bancarie di origine bancaria e comunque è un tema dal quale non mi allontano pur non avendo in questo momento un ruolo specifico mantenendo il ruolo di fatto di colui che ha costruito questo progetto di cui stiamo parlando e che continuerà a costruirlo e portarlo avanti questa illustrazione poi è contingentata in qualche maniera nei tempi e quindi seguiamo i tempi della presentazione dell'avvio come è consentito il contingentamento è dovuto al fatto che stiamo dentro un festival in premessa di un festival dove i tempi devono poi essere devono poi correre devono interessare ripetutamente l'attenzione delle persone e quindi in 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 quest'ambito bisogna tenere tenere con attenzione quello che si sta muovendo e questo è un tema che le fondazioni di origine bancaria compiono lo diceva Guido in molti casi noi abbiamo un caso clamoroso forse un caso specifico nella città di La Spezia dove la fondazione di La Spezia produce da tempo un molto importante festival della mente che è elemento ormai di raccolta di pensiero e di innovazione nel pensiero questo nostro progetto e questo merita anche è stato raccolto appunto nel volume che poi qui viene presentato che è un volume di Guido il progetto M9 va avanti invece nella connessione fra argomenti della memoria e luogo di espressione e si candida proprio alla valorizzazione di questo festival anche in futuro questo festival che è dedicato a politica e leadership è un tema mica facile anzi è un tema credo da prendere proprio con le pinze è un tema scorbutico che da sempre accompagna la storia dell'uomo in quest'ambito è un tema declinato al futuro per il quale questo binomio è veramente difficile da decodificare tra politica che si attua e leadership che si esprime e in questo senso in realtà le due parole dovrebbero essere una sola dovremmo avere una persona sola una parola sola che interpreta questo fenomeno però non c'è si continua a dire leadership e politica e se anche avessimo una parola sola quale di queste due usando terminologie dello studio della lingua quale di queste due sarebbe la testa pensante della parola unificata la parola pomodoro qual è la cosa che potrebbe essere capotreno beh ce n'è una che guida e l'altra no qui sarebbe veramente difficile a capirsi e anche questo problema è un interrogativo che fa storia che va visto che va visto nel tempo va collocato nel tempo e sarà visto nel futuro oggi noi leadership la intendiamo come una capacità di guida sostanzialmente dove qualche segno distintivo per esempio una cravatta rossa può essere elemento di indicazione della capacità di leadership di un singolo rispetto a un gruppo di una massa rispetto ai singoli questo è l'aspetto che stiamo leggendo in questi giorni nelle realtà europee che riveggiamo nei nei telegiornali tutte le sere ma è una costante del pensiero dell'ottocento del pensiero a cavallo fra l'ottocento e il novecento la massa ha leadership la massa proprodurre leadership culturale e noi cercheremo di investigare anche questo cercando di lavorare oggi la memoria del secolo trascorso per consentire un'espressione di fiducia nel futuro questo è uno degli slogan di questo progetto che noi portiamo avanti e faremo questo percorso per capire dalla storia che cosa ci attende nel futuro con criteri di natura museale espositivi non il dibattito non lo scritto non la conferenza televisiva organizzeremo un museo senza l'oggetto principale dei musei l'oggetto che viene conservato ed esposto questo è il tema sul quale vorrei raccontare esprimere fino in fondo il pensiero di questa iniziativa che è un'iniziativa veramente innovativa e che non è detto che poi riesca nell'attenzione col successo che noi pensiamo possa avere è tutta da vedere è una scommessa ed è una scommessa che si sta svolgendo qui di fianco a poche centinaia di metri di metri di qua il progetto nostro prevede l'uso delle immagini degli oggetti non degli oggetti si potrebbe narrare il quarto stato in varie maniere analizzando la tela è una tela enorme 3 metri per 5 e mezzo è un modo di analizzare la tela oppure si può analizzare il pensiero del quarto stato attraverso il prodotto che Pellizza stesso produsse nel darsi l'idea del quadro della tela della grande tela utilizzando un sistema che gli operatori artistici usano correntemente non parliamo dell'anterna magica della capacità che lo stesso che lo stesso che nei pittori del seicento talvolta veniva utilizzato che lo stesso canaletto usava ma usando la fotografia e c'è una fotografia di Pellizza da Volpedo che viene lì pubblicata che è bandata perduta che non c'è più di cui si conoscono solo le riproduzioni e le riproduzioni a stampa fra l'altro quindi non di grandissima qualità ma che ci spiega cosa pensava lui andiamo a vedere il tema della leadership di massa che ci rappresenta il quarto stato andando a analizzare una fotografia che non c'è più beh siamo proprio nell'immateriale in una situazione in cui ci sfuggono le cose non stiamo analizzando la pittura il gesto il segno stiamo analizzando una cosa che non c'è più ed è questo che accompagna la nostra capacità di introduzione in questo in questo argomento il nostro strumento di comunicazione e di lettura del percorso umano e sociale saranno dunque le immagini solo le immagini non oggetti il secolo novecento il novecento è il secolo delle immagini prima c'era tutto un altro mondo le immagini visive le immagini cinematografiche le immagini televisive le immagini ferme le immagini in movimento le immagini delle macchine fotografiche tutto l'armamentario delle immagini auditive l'armamentario delle riproduzioni sonore le immagini sensoriali dell'inesistente che ormai compare sovente nella nostra quotidianità e poi le immagini gustative le immagini olfattive tutto è riproducibile tutto rappresenta per immagini una cosa che c'è che c'era e che in quel momento non c'è prendiamo solo l'immagine in presenza tanto da consentire però la diamo così in maniera profonda da consentire alle immagini di avvolgere il visitatore di avvolgere chi vede chi è entrato per vedere questa è la parte del progetto che con Valerio Zingarelli stiamo sviluppando Valerio Zingarelli è un ingegnere ha una competenza tecnica ha avuto importanti veramente importanti ruoli di natura tecnica e tuttora detiene uno nell'ambito di grande importanza nell'ambito della RAI questo è il percorso degli oggetti delle immagini che ci stanno portando in una realtà io credo che quello che voi vedete è una rappresentazione di uno strumento che si chiama Oculus che dà in termini reali evidenza a chi si guarda dentro quella maschera vede tutt'altro e vede cose reali nella sua interpretazione nell'interpretazione dei suoi occhi ma egli è lì con quella maschera sul viso queste cose sono elementi di avviamento verso sistemi di trasmissione dell'informazione delle immagini del futuro che noi oggi stiamo come dire percorrendo con grande ingenuità e con grande incompetenza ma prima del 1940 chi era che pensava alla televisione questo è il punto al quale dobbiamo fare riferimento il nostro quindi è un progetto che sta diventando un prodotto vero e proprio per la maturazione che lo accompagna e deriva dal lavoro di molte persone gli esponenti i consiglieri della fondazione hanno seguito questo nostro progetto l'hanno accettato e nella generalità dei casi l'hanno pure approvato abbiamo costruito un sistema di 5 advisory board citati da Guido per intorno ai temi specifici la struttura della fondazione opera seriamente in quest'ambito la società Polimia è l'artefice immobiliare che attua il progetto architettonico di uno studio internazionale che ha vinto un bando che ha vinto un concorso con noi e che ha prodotto un progetto che è in corso di realizzazione da parte di un'impresa che ha vinto un altro bando tutti i bandi europei tutti i bandi di particolare impegno per chi vi partecipa ma anche per chi li bandisce la società l'impresa Maltauro che sta costruendo in via Poerio e in via Brentavecchia l'intervento che stiamo che ne abbiamo progettato abbiamo progettato di fare un museo a Mestre non il museo di Mestre che molti ci chiedevano il museo di Mestre è di una difficoltà e probabilmente anche di un risultato di una grande difficoltà e probabilmente di un risultato modesto è un tema della ricostruzione del pensiero urbano che ha costruito gli immobili che noi vediamo ma a Mestre è possibile portare apporti di cultura che altrimenti come dire non sono accolti nella capacità culturale della città di Venezia nell'altra parte della città quella sulla laguna dove 42 musei si susseguono 42 fra musei e palazzi aperti al pubblico ecco per intenderci non sono esattamente tutte strutture museali che forniscono un'informazione totale ai milioni di visitatori che vengono e che non sempre ne fanno buon uso ma intorno ai temi ai quali noi ci dedicheremo non vi è esperienza la nostra è un'esperienza prioritaria che cerchiamo di portare nel luogo della modernità e qui il dibattito all'interno degli advisory board culturali che ci seguono è molto intenso così la fondazione di Venezia trasforma la sua natura dall'essere un ente che nel sentire comune sembrava essere solo un soggetto benevolente che avrebbe dato un po' di soldi distribuito a pioggia i suoi contributi magari agli amici degli amici e quindi consolidando una sua presenza e invece in questo caso si trasforma in un soggetto giuridico che è artefice di un'altra attività la fondazione la fondazione di Venezia è una fondazione di origine bancaria e ha trasformato però è di antica di antica lettura di antica impostazione l'universitas bonorum dei canonici degli anni mille è una fondazione è una fondazione allora loro non lo sapevano ma è una fondazione questa si è trasferita nel tempo ha nel codice civile nostro una specificità di posizione tra gli enti del libro primo del codice civile cioè tra gli enti non commerciali ed opera per le attività che il suo statuto le dice di dover adempiere sono 6.000 le fondazioni in Italia erano 10 anni fa la metà c'è una crescita dell'uso di questo strumento giuridico veemente nella realtà istituzionale italiana forse a fianco della caduta dei partiti a fianco della caduta di tanti livelli anche di strumentazioni informative la caduta dei settimanali per esempio il tema delle fondazioni si va diffondendo con grande velocità 6.200 fondazioni in Italia 97.000 negli Stati Uniti 129.000 in Europa nel mondo non lo so saranno tante certamente tante e quindi non è facile misurarle e tutte sono definite con la sola specifica dizione giuridica di essere soggetti non profit non profit allora tutta questa massa di soggetti di persone che vi lavorano di amministratori che le portano avanti agiscono solo per una cosa negativa hanno come scopo soltanto quello di non fare una cosa ma quando mai si può dare una definizione che abbia senso usando solo la negazione è un sistema che si usa in alcuni ambiti ma il fatto di leggere questi soggetti che hanno una realtà nel paese che si sono diffusi che occupano attività come per esempio le fondazioni liriche come per esempio la biennale è una fondazione le fondazioni mediche ospedaliere le fondazioni che si muovono ovunque sono solo soggetti non profit mi sembra una definizione riduttiva apofatica come diceva Aristotele ma indegna di una epistemologia moderna ecco forse leadership e politica potrebbero occuparsi anche di queste cose dove sviluppi della società non riescono a trovare addirittura un nome proprio che li rappresenti essendo definiti solo per negazione non fanno profitto bene questo è un tema che scientificamente seguo da tempo nel 2006 la mia università di Ca' Foscari mi ha consentito non dico mi ha chiamato mi ha consentito di aprire l'anno accademico facendo una prolusione che ho intestato al tema del profitto capovolto il non profitto secondo me è profitto capovolto adesso vorrei proprio illustrare qui nella seconda e ultima parte del mio intervento questa capriola del profitto il risultato che questa capriola del profitto che non va in cerca di accumulo di capitali è riuscita a esprimere in quest'ambito in omaggio al suo nome di soggetto non profitto per fare questo userò gli strumenti che sono ormai abituali uso nella sintassi informatica nella sintassi digitale i soliti argomenti chi siamo come operiamo dove siamo contatti finali la fondazione di Venezia chi siamo è una fondazione che opera per legge non può avere il controllo azionario di nessuna società meno che mai può avere il controllo delle banche chi ci ha provato a ottenerlo è fallito sta fallendo tuttavia ha un'anima difficile da spiegare è difficile da gestire è difficile perché il presidente anche se lo è stato per tanto tempo per un verso viene vista una fondazione di questo tipo come una società finanziaria che investe e deve fare profitto deve fare profitto per pagare i costi della medesima soggetto per altro verso viene vista invece come un'azienda di erogazione che quel profitto distribuisce ad altri che realizzino il loro profitto abbiamo una serie di letture in qualche maniera anche divertenti non so quanto lo schermo li renda la società finanziaria viene rappresentata da un consiglio d'amministrazione in cui ci si rallegra per avere guadagnato nel corso dell'anno 65 pound 65 euro la società erogatrice viene vista sotto questo aspetto di questa invasione di domandanti contributi come illustrata in questa cosa insomma questa fondazione questo soggetto con due anime con due modi di essere in un corpo giuridico solo è oggettivamente una macchina celibe una macchina che funziona che non funziona neanche per se stessa e che non riesce a far assumere il rischio che è quello che conduce a fare delle cose nuove e non a fermarsi sulle cose sulle cose antiche ecco perché da alcune fondazioni di particolare qualità hanno scelto un'altra strada la strada dell'impact investing cioè di un investimento che porti reddito non il massimo possibile ma anche il risultato sociale lo stesso succederà per noi noi investiremo 100 milioni potremo forse da questi 100 milioni poi vedremo di quanti potremo da questo investimento di 100 milioni anche non trarre un profitto eccezionale forse addirittura trarre un profitto nullo e naturalmente i maghi di Wall Street ci guarderanno con compassione naturalmente qualche mio collega economista Gonzo andrà dietro a loro ma invece noi avremo prodotto un museo che altrimenti non ci sarebbe stato investiamo dei soldi non per guadagnare ma per fare una cosa che altrimenti non ci sarebbe stata questo è un tema che ci accosta agli enti pubblici nell'ambito dell'articolo 118 della Costituzione quello della sussidiarietà che laddove un prodotto non compare nella sfera pubblica può essere sussidiariamente prodotto dai soggetti privati concludo con alcune indicazioni puramente formali la fondazione di Venezia per carità non è questa meraviglia che io ho descritto è una delle 88 fondazioni bancarie non è fra le più grandi è intorno circa al ventesimo posto ha però una capacità di gestione dei propri soldi assolutamente di buona qualità quello che vedete su quel grafico che può essere ostico a qualcuno ma insomma si rappresenta abbastanza bene si vedono nelle sbarrette azzurre dovrebbero essere io ho una fotocopia in bianco e nero il valore di bilancio a ogni bilancio dal 1992 del patrimonio della fondazione e in quell'andamento sinusoidale verso l'alto che dovrebbe essere arancione vediamo il valore reale del nostro patrimonio a un certo punto negli anni negli anni 2005 2006 eravamo diventati ricchissimi con un valore del patrimonio quasi doppio di quello contabile poi c'è stata la crisi poi siamo tornati su e siamo tornati a essere in condizioni ottimali dal punto di vista patrimoniale questo ci porta ci porta a essere nella possibilità di collaborare con altri soggetti la nostra posizione finanziaria è pacifica e tranquilla possiamo collaborare con altri un milione l'anno va alla fondazione La Fenice da sempre dal 2000 quando gli enti lirici sono diventati fondazioni e con la fondazione di La Fenice abbiamo aperto un'esperienza molto importante abbiamo aperto delle stagioni musicali siamo già arrivati alla terza edizione che operano nei centri della provincia ora città metropolitana abbiamo costituito un programma musicale che La Fenice ha voluto intestare giustamente alla indicazione di opera metropolitana che viene portata dalla sua struttura tecnica in giro nella realtà è una provincia grossa la nostra un milione di abitanti ma ha dei centri importanti Portogruaro Sandonà Chioggia Mirano evidentemente in questi la cultura si può portare non occorre portarli tutti in Campo San Fantin con tutte le difficoltà e con tutta la concorrenza nei posti di vaporetto da parte dei turisti che non lascerebbero entrare tranquillamente così come l'accordo con La Fenice si associa a un accordo estremamente importante con l'OSD in Italia OXE l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che sta aprendo presso la sede di Venezia un proprio ufficio dedicato a tutto lo spetro delle attività che l'OXE sviluppa nel mondo e che sovente le televisioni ci spiegano nella risultati che loro ottengono ma anche e soprattutto nel caso nostro dedicato allo sviluppo dell'industria della piccola media industria che è un connotato specifico delle nostre terre sto per concludere sto per concludere questa attività della fondazione si sviluppa qui si sviluppa a Mestre la sua sede su Rio Nova Venezia ha una sede importante all'isola della Giudecca dedicata alle mostre di fotografie e domani se ne apre una di particolare sensibilità e importanza intorno al ruolo e alla capacità che hanno le fotografe nel fare la fotografia l'occhio femminile dietro all'obiettivo una mostra che per tutti quelli che hanno appena passione per questi dati consiglio di andare a vedere che si aprirà domani all'isola della Giudecca non è colpa nostra se la città di Venezia è così larga e bisogna prendere i vaporetti ma questo è un tema che mi sento di consigliare questa capacità di stare al centro porta Venezia e Mestre al centro della città metropolitana era la provincia era il capologo di provincia ma certo è così è uguale non ci si inventa non c'è stato un terremoto non è cambiato il territorio sono cambiate le leggi quella che era provincia oggi viene chiamata città metropolitana non è esattamente la figura della città metropolitana che nel mondo si è affermata ma è certamente la migliore che ci sia perché quella che c'è e altri tentativi di arrivare a una definizione di città metropolitana nel nostro territorio sono falliti nel tentativo forse di censire troppo le realtà politiche e le realtà sociali che dovevano essere accostate alla cosa in ogni caso siamo è chiaro basta vedere la fotografia dal satellite in una unica realtà urbana una realtà urbana in cui si distingue Padova Mestre Treviso e poi Castelfranco volendo insomma ci sono una serie di altre indicazioni che però comportano una importanza di questo triangolo Padova Mestre Treviso particolarmente evidente nella slide successiva che racconta una cosa non facilissima da comprendere subito tutte quelle sbarrette che vedete tutte quelle linee sono linee che hanno un punto di partenza è un punto di fine nel territorio nella carta geografica il punto di partenza è un luogo da cui partono 100 automobili al giorno e che raggiungono il punto di destinazione tutte quelle linee rappresentano 100 automobili che partono da un luogo e vanno in un altro naturalmente nelle parti più periferiche si vedono meglio nella parte centrale è un accumulo un'aggregazione un'assommarsi tutte queste linee in un meccanismo di comunicazione e di circolazione che qualche volta vanno trovano trovano vanno in tilta diciamo e sono in difficoltà a muoversi per fortuna successivamente è stato costruito il passante per fortuna quello che in tutto Italia ci prendevano in giro perché quello di Mestre era il valico di Mestre non era la tangenziale di Mestre un luogo dove per passare bisognava penare e aspettare consumare benzina consumare soldi e ahimè consumare vite umane anche quel valico di Mestre è stato risolto dalla costruzione del passante e Mestre è ricomparsa al centro di una realtà alimentata proprio anche dalla circolazione che la si svolge questo è il ruolo centrale che la città ha assunto è il ruolo centrale al quale noi crediamo e nel quale vogliamo collocare un progetto di alta altissima altissima qualità per chi facciamo questo progetto per chi si trova qui per cui per chi ha la possibilità di avere un museo gestionalmente corretto e avanzato e avere nello stesso tempo una gestione moderna di un ettaro che oggi era chiuso che nessuno conosce perché ci stava un vecchio convento secentesco che dedicato da Napoleone avendo cacciato le suove che ci stavano dedicato da Napoleone ai propri militari che poi sono passati convento che poi è passato sotto forma di caserma più o meno di uffici ai militari austriaci e poi finalmente ai militari italiani che vi hanno tenuto un presidio fino a poco tempo fa io ho un certo numero di anni ma sono andato lì a ritirare il mio congedo quando ho finito il servizio militare quindi ancora funzionava funzionava in quel senso bene in questa realtà così complicata noi andiamo introducendo delle iniziative di nuova qualità ne vedete una che è quella di come usare di questo centro la lettura non è facile ma sono indicate in questo spaccato del convento sono indicate una serie di funzioni di natura commerciale che la possono essere contenute e in fide siamo in grado di spiegare in un colpo solo dove eravamo prima come è stato modificato e quale sarà la città che uscirà dall'intervento della nostra del nostro del nostro progetto bene in questo in questo quadro vanno dicevo 100 milioni dei 400 che la fondazione possiede un investimento che invece di comprare obbligazioni fondi va direttamente investito in mura e in attività nella città in questa città questo viene fatto per poter consentire di andare avanti nelle capacità culturali forse per raggiungere una leadership forse per raggiungere una leadership veneta nella capacità recuperando una realtà che vede sempre il Veneto differenziato da Venezia per cui Venezia si sa che è un posto di cultura ma noi siamo veneti bene anche Mestre è Veneto ed è un posto di cultura una leadership che è possibile recuperare in quest'ambito noi costituiremo una fondazione di partecipazione che consente partecipazione anche di altri per la realizzazione del museo e per la gestione dell'ettaro questa fondazione entro la fine dell'anno verrà costituita e in questa maniera avremo portato avanti i soggetti i soggetti operativi in questo momento lavorano una quarantina di persone nell'ambito del nostro progetto l'attività è forte ma non è tanto facilmente leggibile le mura asterne sono sempre quelle il convento è stato foderato da un'immagine di se stesso via Brentavecchia è usata dagli uffici come prima la caserma dei carabinieri non c'è più il passaggio in via Meucci dovrà essere rifatto ma insomma poco si vede ancora molto sottoterra si sta lavorando ma poco si vede e allora e allora vediamo di far vedere con gli occhi con gli occhi delle immagini quanto stiamo realizzando i futuri effetti speciali li presenteremo l'anno prossimo visto che ormai siamo diventati siamo diventati di casa e alla fine del 2017 dovremmo avercela fatta e aprire la nostra iniziativa buona visione di quello che adesso vi verrà rappresentato un minuto di pazienza grazie grazie questo è lo stato del convento quando ci è stato consegnato questa è la caserma dei carabinieri la caserma dei carabinieri viene smontata grazie a tutti ricuperiamo tutto quello che è recuperabile questi erano immobili di servizio dell'esercito vengono raccolti i reperti verranno riusati rimontati ricostruiti questa è una torretta a fianco del convento che viene smontata senza toccare il resto del convento perché sarà poi di servizio per le merci che non devono circolare all'esterno saliranno attraverso questo percorso ai piani superiori la chiesa di santa maria delle grazie e quella è il retro che la vedete siamo arrivati al giugno dell'anno scorso l'11 giugno è stato consegnato il cantiere all'impresa l'11 giugno del 14 dell'anno scorso e qui il discorso di prima sono immagini di qualcosa che non esiste che esisterà l'ingresso al museo il convento trasformato in centri commerciali in luogo di attività commerciali non centri coperto siamo in via Poerio non c'è il canale la copertura consente di avere luce ma non è totale per evitare la condensa l'umidità ci siamo persi eccolo qua bene vi ringrazio credo che si debba cedere il passo ai futuri relatori alle 19 quindi tra pochi minuti Carlo Frecciere Guido Multedo parleranno di Renzi politica e comunicazione a tra poco grazie 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 grazie